guardiamo reddit ragazzi datemi un secondo che vado a prendere l'acqua strumox wikipedia grazie scuolo luca ma non lo so perché forse è un meme e sono grazie filo oggi omi compie due anni me lo ricordavo sempre più in forma e guarda che bel coniglio sempre più in forma un saluto al coniglio omi e altri cento di questi povero amo grazie don julio povero ame vedo monopattino ducati nuovo comprato il giorno 19 2 vendo casa acquistato causa acquista errato niente spedizione solo scambia mano su rimini 50 euro a stenersi affaristi a perché hanno rubato grazie pelle hanno rubato il monopattino a patrizio vabbè poverino fa dispiacere non credo che questo redditor sia un ladro di monopattini di patrizio ora vorrei provare questo effetto ma che razza di effetto è mai questo il migliore posso dire che il migliore il migliore modo per usare un meme grazie a tutto capendolo proprio faccio totalmente tutto il giro e renderlo divertente mai mai dimenticheremo questa leggenda grazie chissà se ancora vivo grazie c'ho sete c'ho sete dio cane mi bevo subito sto rum e pera che c'ho sete alla goccia alla goccia dio cane vado giù vado giù vado giù vado giù non mi fermo non mi fermo non mi fermo dio cane non è morto il puma grazie scambia tol non è morto grazie dacos lo sai che che me l'ha detto qualcuno probabilmente è l'allergia io non me lo so io me lo so scordato che io ero maura l'abbiamo data via perché io ero allergico a maura ragazzi a me veniva tutto da prudermi a volte mi gonfiavo grazie ciao sono il nuovo guardiano serata tranquilla parto rumore strano che per niente c'è nessuno ho sentito un rumore da parte di lolopaz c'è nessuno adesso accendo la torcia elettrica e controllo niente anche stavolta torno a fare la guardia c'è una nuova guardia quando non c'è nessuno in chat c'è questa piccola guardia notturno più credo mattiniera ognuno fa può starci come lavoro o le immagini del furto con la tecnica dell'abbraccio no non ero io non ero io a non ero io ad abbracciare ad abbracciare il signor amedeo preziosi modificato a scuola amica ma che cazzo vi danno a scuola ma che schifo cos'è la parte più tecnologica è il foglio ma però ma guarda 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 è rotto pure sfondato è tutto sfondato se nel mondo esistesse un po' di bene ognuno si considera il suo fratello ci sarebbe meno pensieri e meno pene l'Italia non è in guerra prima del 2023 un classico bella o mi saluta la mia ragazza a pontilla voglio scopare il porco dio grazie Marta voglio scopare il porco dio non credevo che Chris fosse già arrivato eh questa è la già nel reddit c'è la propaganda vabbè abbiamo capito l'antifona abbiamo capito l'antifona signor Sigma ok questo non credo in realtà ti manca solo di trovare l'angelo giallo e poi siete il duo perfetto eh Diego devo fare grazie mister Basili a Diego dobbiamo dobbiamo andare alla alla manifestazione così adesso ci scanziamo non ricordo dove siamo non ricordo con chi stiamo me l'Andrea Kimi come are you quando arrivo già già lo sai tu che è qui di questo passo si enda in tv questo tizio è panace is a little blue and I come and I do a little vabbè ragazzi se se avete le metro delle cantine non credo che si dovesse cioè che si arriverà a questo grazie Sigma Mobile siamo in ah qua questa guerra sta venendo vinta quasi top 20 grazie grazie mi sento io è quasi pronto ma manca Jamba che mi dia i dati meno male che ci hai modificato i tv questa live l'avevo persa Putin e Slave no infatti non ma Putin col drip ma poi penso avesse però posso dire bella scelta di asta Andrea anche tu sai benissimo come poter risolvere questa situazione non credo non voglio non voglio sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello questa ti permette di usarlo tutto hanno fatto le sperimentazioni è un farmaco approvato d'accordo è solo una curiosità e nient'altro guarda quante nocche che ho pensa a un pugno con tantissime grazie scambi a tolla in una guerra pietata questa città sarà in guerra e questa città avrà a me come nuovo capo tutti fermi sulle mani grazie bell'è posso dire che letteralmente probabilmente in una rissa di strada con i miei amici mi sa che vinciamo noi io faccio l'arbitro però gli altri in effetti sono abbastanza carichi questa cosa potrà aprire un altro scenario la fadiuccio è ai minimi storici questa cosa potrà aprire un altro scenario la fadiuccio è ai minimi storici se questa cosa potrà aprire un altro scenario la fadiuccio è vabbè grazie Gimbo bello e bastano 6 secondi per farlo è ai minimi storici io lo so bene bello grazie parco semplice ma carina sì 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 la provo grazie